Tu sei un altro cliente dell'Angolo delle Muse, cosa ne pensi della protesta che stanno inscenando alcuni vicini del bar? Storico dell'Angolo delle Muse, vent'anni che frequento questo locale, mi sono sempre trovato bene, non ci sono mai stati grossi problemi nel locale, non capisco perché con me queste persone sono arrivate a tal punto di inscenare fuori dei manifesti dove tutti possono vedere, insomma, anche a discapito dei ragazzi che comunque sono due bravi persone.